Buonasera e ben ritrovata con stato appuntamento con la voce delle istituzioni, ospite in studio come sempre gradita, Tatiana Paes Becker, che è la sindaca del comune di Auronzo di Cadori, uno dei comuni turistici della nostra provincia che si presenta a questa stagione molto singolare e particolare. Quali sono le preoccupazioni che avete come comune turistico? Buonasera e grazie innanzitutto per l'opportunità. Come comune turistico, Auronzo, per quanto riguarda l'emergenza Covid-19, ha avuto una situazione abbastanza tranquilla perché abbiamo avuto due casi di persone positive, una quindicina di persone in isolamento e fortunatamente tutti sono guariti a casa, quindi siamo stati, tra virgolette, fortunati. Quindi dopo l'emergenza sanitaria c'è quella economica che ci preoccupa molto, anche se il periodo per Auronzo è stato un periodo di bassa stagione, quindi gli alberghi a fine marzo stavano per chiudere per poi riaprire la stagione estiva e quindi adesso l'importante è che la stagione estiva sia una stagione con presenze turistiche, non dico come gli altri anni perché sicuramente ci sarà un calo, ma che le attività possano appunto lavorare tranquillamente. Diciamo che questi primi fine settimana comunque fanno ben sperare. Sì, i primi fine settimana e anche il ponte del 2 giugno hanno avuto molte presenti, soprattutto Veneti perché appunto era possibile solamente girare all'interno della nostra regione e quindi questo è un motivo di ottimismo. Avete avuto anche voi sospendere molte manifestazioni che erano catalizzanti? Sì, avevamo un programma molto vasto di manifestazioni, è stato tutto rivisto, tutte le manifestazioni di giugno sono state non annullate ma posticipate, quindi c'è l'evento internazionale di Canoe che è stato posticipato all'ultimo weekend di settembre, ci sono tre giorni di orientire nella manifestazione che anche lo scorso anno era stata organizzata con il Comune di Comerico Superiore, è stata posticipata da giugno, fine giugno ad agosto. Abbiamo eventi culturali come Auronzo Aperta che è la prima edizione dopo l'edizione dell'anno scorso che era Auronzo ospita a Lorenza Aperta che verrà realizzata e lo stesso anche il Festival Folkest anche se stiamo attendendo poi le norme esatte per gli eventi, quindi concerti o possibili eventi da svolgere all'aperto. Per quanto riguarda invece il ritiro della Lazio, al momento non ci sono problemi, è stato confermato? Non è stato ancora confermato, ho ricevuto ieri una comunicazione da parte di Gianni Lachè della Media Sport Event che ci comunica, solitamente venivano verso il mese di metà di luglio, quindi si fermavano per due settimane e ci comunica il possibile posticipo alla seconda metà di agosto. Naturalmente se la Lazio venisse davvero ad Auronzo e vincesse anche lo Scudetto sarebbe un ritorno di immagine enorme non solo per Auronzo ma tutta la provincia di Belluno quindi noi ci speriamo e io vorrei fare un plauso al Vice Sindaco Enrico Zandegiacomo che è stato il fautore di questo ritiro 13 anni fa perché sono già 13 anni che la Lazio svolge il ritiro stivo ad Auronzo e quest'anno tra l'altro c'è stato il rinnovo del contratto, quindi il contratto scadeva adesso nel 2020 questo era l'ultimo anno, è stato prorogato per due anni, estate 2021, estate 2022 con l'opzione anche per il 2023 e questo è molto positivo perché vorrei ricordare che la Lazio ad Auronzo porta delle presenze turistiche che sono stimate sulle 12 mila persone che arrivano, quindi famiglie con figli a seguito per seguire la squadra del cuore Sì, poi è una squadra che sta dando degli ottimi risultati, quindi c'è anche molta attenzione da parte della stampa nazionale Sì, e anche questo sta a significare che Auronzo è una location ideale sia per non solo le montagne ma anche per quanto riguarda gli impianti sportivi e sicuramente porta bene alla squadra La Scaramanzia in questo caso gioca a favore I provvedimenti che la Giunta ha preso in questo periodo anche se erano molto condizionati dai provvedimenti a livello nazionale e regionale successivamente? Sì, io vorrei fare anche un ringraziamento per chi ha seguito insieme a me questa emergenza Covid-19 Innanzitutto la Giunta, il Vice Sindaco che è stato presente quotidianamente in municipio i responsabili degli uffici, anche essi sempre presenti e tutti i dipendenti comunali oltre al gruppo di protezione civile, le forze dell'ordine e i vari volontari che si sono attivati Come Giunta abbiamo deciso una serie di provvedimenti Il primo è stato quello dell'erogazione dei buoni alimentari circa 15.000 euro che sono stati erogati Poi c'è stata una delibera di Giunta con la quale abbiamo prorogato la tassa di soggiorno che scadeva al 30 aprile, è stata prorogata al 30 settembre C'è stata la decisione di anticipare l'erogazione delle borse di studio che solitamente avveniva verso dicembre l'abbiamo anticipata a giugno per andare incontro anche alle esigenze degli studenti Ricordo gli studenti universitari che stanno pagando lo stesso, insomma la quota di affitto nonostante non frequentino l'università, quindi sono circa 30.000 euro di borse di studio E poi la settimana scorsa abbiamo tenuto un incontro in sala consigliare con i maggiori enti del paese quindi abbiamo convocato tutte e due le regole l'ente cooperativo, il consorzio turistico, lo IAT e anche gli enti che gestiscono gli impianti di risalita e come Giunta abbiamo annunciato di voler mettere a disposizione una transce dei fondi dei comuni di confine di 500.000 euro quei fondi che solitamente venivano utilizzati per realizzare delle opere pubbliche Negli ultimi due anni abbiamo finanziato la piazza di San Lucano, Santa Giustina e quest'anno abbiamo deciso di rinunciare a finanziare un'altra opera pubblica perché sentiamo il dovere morale di aiutare e metterle a disposizione quindi delle famiglie e delle attività economiche Ma il regolamento lo permette? C'è stata una modifica del regolamento proprio quest'anno che è stata annunciata dal presidente dei fondi dei comuni di confine l'onorevole Roger De Menek i sindaci, io faccio parte del coordinamento dei sindaci che è presieduto dal sindaco Perenzin avevano richiesto una semplificazione per l'erogazione di questo contributo e quindi da quest'anno sarà possibile presentare una semplice delibera di giunta non più un progetto non si finanzierà solamente un progetto con 500.000 euro ma si può suddividere la cifra in quattro progetti e è stata accolta la nostra richiesta di utilizzare questi soldi anche per l'emergenza Covid-19 E come pensate di utilizzarlo? Quegli investimenti quali saranno? Noi pensiamo di mettere a punto dei bandi appositi per finanziare investimenti sia ad esempio investimenti che le famiglie faranno per l'acquisto di materiale informatico investimenti delle attività economiche per quanto riguarda la sanificazione degli ambienti investimento nel sociale ad esempio della casa di riposo che vorrei ricordare è rimasta Covid-free e qui va il plauso a tutti gli operatori sanitari, al direttore e al gruppo appunto tutto il direttivo perché dovranno essere fatti degli interventi per mettere i locali adeguarli insomma in caso di possibile contagio E poi c'è un quarto filone che abbiamo individuato che è quello invece della promozione del marketing quindi un rilancio turistico e potremo anche appunto finanziare un progetto in quel senso quindi insieme ai vari enti abbiamo cercato di capire quali fossero le esigenze e poi appena il bando uscirà ci ritroveremo insieme per finalizzare il tutto Ecco visto che la stagione invernale purtroppo si è conclusa anticipatamente quella estiva parte un po' in ritardo con queste problematiche fondamentale è il ruolo dell'ufficio turistico avete risolto le problematiche di un anno fa Sì, fortunatamente questa emergenza ha portato anche a una maggiore unione di tutte le forze presenti in paese perché ci si rende conto benissimo che bisogna lavorare uniti e avere un obiettivo comune che è necessario partire poi quasi da zero adesso per rilanciare il turismo e quindi abbiamo tenuto in municipio una riunione la scorsa settimana tra l'amministrazione comunale, l'OIAT che attualmente è gestito dalla cooperativa Cadore e il consorzio turistico Dolomiti Trecime l'idea è quella di partire per l'estate appunto collaborando insieme quindi si sono suddivisi i compiti e verrà comunicata la nuova iniziativa anche con una lettera inviata sia a tutti i soci del consorzio sia a tutte le attività commerciali, artigiane, alberghi naturalmente il tutto andrà armonizzato anche con iniziativa a livello provinciale o se si vuole anche di zona, quindi tutto il Cadore sì certo, io sono in contatto costante con l'ADMO, con il suo direttore Giuliano Vantaggi e anche con la stessa regione Veneto, con l'assessore al turismo Caner per cercare poi di seguire quello che verrà realizzato a livello comprensoriale Lei è entrata in carica e le sono capitati due eventi particolarmente impegnativi VAIA prima e adesso il Covid VAIA che sembra una ferita rimarginata in più località in realtà è ancora una ferita aperta che si continua a intervenire Sì, VAIA ha lasciato davvero delle ferite molto profonde sul territorio soprattutto ad Auronzo a livello idrogeologico Devo dire che ci sono degli interventi in programma ancora molto cospicui perché sono stati finanziati circa 9 milioni di euro gli interventi che andranno a realizzarsi da quest'anno al prossimo anno 2021 e per questo vorrei ringraziare l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin che ha tenuto numerosi sopralluoghi e è stato molto disponibile anche ad ascoltare le istanze dell'amministrazione comunale quindi è stato finanziato un intervento importante sul fiume Anciei per lo sgaiamento del fiume per la realizzazione poi di una pista idraulica sulla destra orografica del fiume e uno sgaiamento anche del lago di Santa Caterina e per questo intervento ci sono tre stralci da 1 milione e 200 mila euro ciascuno sono finanziati con i fondi dell'Unione Europea FSUE con questi fondi è stato finanziato anche il rifacimento del ponte Malon con 800 mila euro e poi c'è un finanziamento importante per interventi che verranno realizzati da Veneto Strade sulla strada provinciale 49 che se ricordate è la strada che da Misurina scende a Carbonin proprio dove si era formata quella voragine durante la tempesta vaia quindi lì c'è un intervento che è già stato appaltato e finanziato con 3 milioni e mezzo di euro si prevede appunto un rifacimento e una messa in sicurezza di tutta la strada per il rischio idrogeologico e un ulteriore intervento di Veneto Strade verrà realizzato sul ponte sul rio Popena oltre a questi interventi ce n'è uno dei servizi forestali per circa 400 mila euro che è stato realizzato in questi giorni sul rio Diebba e altri interventi minori che verranno invece realizzati direttamente dal comune di Auronzo che deve contrattualizzarli entro il 30 settembre In tutto con le difficoltà di rispettare le norme di sicurezza si erano fermati tutti questi lavori? Si erano fermati tutti i lavori infatti sono ripresi da poco gli unici che forse hanno continuato a lavorare sono stati gli operai di Terna che hanno lavorato anche durante tutta la stagione invernale per realizzare la linea interrata a quella che è da Somprade, Vazuella, Cortina stanno lavorando anche nei weekend davvero perché vogliono finire il tutto entro novembre di quest'anno e Terna realizzerà anche un altro importante intervento per il comune di Auronzo di circa 2 milioni e mezzo di euro che è l'interramento dei tralicci che dalla centrale del ponte Malon salgono per via Berti e via Paes quindi proprio nel centro abitato di Auronzo questi tralicci verranno interrati e ricordo che questo è un intervento che è stato richiesto negli ultimi vent'anni da tutte le amministrazioni che si sono susseguite quindi è una grande soddisfazione che finalmente Terna abbia accolto la nostra richiesta e sarà una miglioria per tutta la cittadinanza Sì, il rovescio della medaglia è che purtroppo questi lavori verranno fatti nel periodo di affluenza dei turisti, speriamo tanti, quindi qualche disagio ma altrimenti non si può fare, vero? Probabilmente li faranno in autunno, non credo, durante l'estate E' meglio prendersi avanti anche perché non si sa mai che cosa succede e mai come in questo periodo siamo rimasti incerti La vostra, faccio riferimento forse un po' improprio l'ospitalità data alla Lazio ha creato qualche problema per quanto riguarda qualche faccino roso e mai come in quel periodo si era ritenuto opportuno avere qualche sorveglianza in più delle telecamere non è solamente per questo chiaramente che si fa ma anche suppongo per questo Sì, come Giunta abbiamo finanziato un progetto di videosorveglianza di 46 mila euro che va a seguire il patto per la sicurezza urbana che il Comune di Auronzo ha siglato anche con la Prefettura di Belluno e con questo progetto verranno installate una decina di telecamere sul territorio comunale tutto è supervisionato dal nostro comandante della Polizia Municipale questo avverrà nelle prossime settimane quindi per l'estate avremo un territorio più sicuro e oltre a questo abbiamo anche finanziato un intervento per il rinnovo dell'illuminazione pubblica 100 mila euro che erano stati finanziati in autunno e sono stati appena terminati e c'è un nuovo progetto di illuminazione della via Pospizza per il quale abbiamo chiesto un finanziamento anche regionale Le telecamere che posizionerete sono di videosorveglianza è una richiesta che faccio da automobilista, non sono autovelox Non sono autovelox, sono videosorveglianza e lettura, targhe Sì, frequentando la vostra zona, sono delle montagne bellissime potrei incappare in questo tipo di controlli A proposito dei sentieri, sono stati recuperati tutti, voi avete molte valli che sia a destra che a sinistra salgono e portano a delle vette oppure a dei rifugi particolarmente interessanti No, per quanto riguarda i sentieri c'è un problema molto molto grosso che è stato dibattuto anche nell'ultima riunione tra i vari enti in sala consigliare ci sono dei sentieri che sono stati danneggiati dall'ultimo maltempo quello non quello di Vaia ma quello del novembre scorso con la grande nevicata che nella zona che va da Pelus San Marco a Misurina davvero anche nella foresta stessa di Sommarida ha fatto dei danni enormi con numerosi alberi che sono stati sradicati e quindi c'è un intervento da programmare che è davvero molto importante e non può essere lasciato solamente ai volontari io vorrei ringraziare i volontari, ci sono i volontari del CAI che hanno lavorato per il ripristino della Val Giralba ci sono volontari che anche in queste settimane stanno lavorando per il ripristino di sentieri quelli più bassi attorno all'abitato, al paese quindi è un lavoro importante quindi i sentieri che devono essere rimessi a posto comunque resi nuovamente più praticabili sono quelli delle marmarole anche nella zona da tutta la ciclabile che da Pelus San Marco a la Misurina c'è il giro attorno al lago di Misurina ci sono i tre anelli sono moltissimi e anche i sentieri vicino al nostro abitato sentiamo ancora 30 secondi per parlare della mensa scolastica del nido integrato ma soprattutto del centro estivo problematica viva tra tutte le amministrazioni per la difficoltà di realizzare questi centri estivi voi lo confermate? noi confermiamo la realizzazione del centro estivo la prossima settimana ci sarà un incontro tra l'ente che gestisce la scuola materna che gestisce anche l'iceo linguistico tra le famiglie e l'amministrazione comunale metterà a disposizione un finanziamento proprio per i maggiori costi che sono dovuti alle norme anti-covid va bene allora l'invito che posso fare naturalmente a frequentare il comune di Auronzo sia per coloro che hanno buone gambe vogliono salire molto in alto ci sono tantissime valli da poter percorrere sia a destra che nella sinistra orografica dell'ansiai ma anche per coloro che vogliono stare a bassa quota con questi bellissimi tragitti oltretutto ci sono molti luoghi nei quali si mangia bene che è cosa mai da trascurare grazie e buon lavoro a Tatiana Weiss Becker grazie a voi per averci seguito e buona serata buonasera grazie a tutti